Buongiorno di mattina, ragazzi ore 10 e 34 del mattino, eccoci qua, ufficio dello smart, quindi il mio ufficio deve ancora arrivare, deve ancora arrivare questo pacco, questo Xiaomi Mi 11 Ultra, sono tre giorni che ho un gorilla qua sulle spalle, perché ho un gorilla qua sulle spalle? E vi racconto anche tutta la storia perché vi voglio portare proprio dentro questi video che facciamo insieme. Allora, praticamente cosa succede? Succede che, lo sapete bene, questi smartphone ci arrivano direttamente da chi si occupa di Xiaomi in Italia per quanto riguarda la stampa, quindi tutto ragazzi parte da Milano. Partendo da Milano, penso che tutti voi abbiate già visto dei video 24 ore con lo smartphone, li ho visti anch'io perché la scimmia, la curiosità di sentire parlare qualcuno in italiano di quel prodotto è altissima e quindi di conseguenza chi fortunatamente abita a Milano, quindi abita vicino all'ufficio stampa di Xiaomi, ha avuto la possibilità di averlo prima rispetto a chi come me abita a Firenze, abita in un'altra zona dell'Italia e quindi deve aspettare un corriere. Ecco perché in pratica il weekend è stato un weekend molto di scimmia, molto di... invidia? Allora, invidia lato lavoro no perché il weekend me lo sono goduto, mi sono riposato e sono stato con mio figlio praticamente 48 ore e quindi sono stato bene, sono stato bene, l'ho portato nel bosco ieri, domenica, ho fatto anche una storia a Instagram, si è divertito tanto, lui ama fare il cacciatore, ama la caccia e quindi relax completo. Mi sono staccato dal mondo dei social e quindi è stata una domenica bellissima, ecco perché vi dico lato lavorativo no, ma lato passione sicuramente sì. Allora, perché avete visto video 24 ore con? Perché fatemi aprire la mia casella di post elettronica, almeno lo sapete, vi racconto tutto, tutto, tutto. Chi fa parte di questo embargo, ho targato Xiaomi per la recensione di questo prodotto, è appunto una recensione che uscirà il 4 maggio dalle ore 13 in poi, quindi mettete la sveglia se volete vedere la recensione di questo prodotto dal 4 di maggio in poi. Però, fino a quel giorno noi possiamo fare un video, che è questo che sto facendo io adesso, dove però non vi posso parlare della batteria, non vi posso parlare delle performance del telefono, non vi posso parlare praticamente di niente, e giustamente è un embargo che noi andiamo ad accettare e quindi la recensione, tutte le cose tecniche, ne parleremo dal 4 di maggio in poi. Arriveranno i confronti, arriveranno tutti i versus con il Mi 11, con l'S21 Ultra, con l'OPPO Find X3 Pro, quindi non vi preoccupate perché questo smartphone che ha presentato Xiaomi in Italia, ancora non so il prezzo, pensate bene, è un signor top di gamma e quindi bisogna fare tutto con calma. E finalmente questa volta anche in casa Xiaomi non c'è la fretta di uscire con la recensione, ma abbiamo tutto il tempo per andare a testare queste caratteristiche dello smartphone che sono veramente tante. Ragazzi, eccoci qua, aggiornamento orario 14.46 del pomeriggio, è arrivato Mi 11 Ultra, eccolo qua, purtroppo non posso farvi un video unboxing con la confezione perché era ridotta in condizioni pietose, qui ci sono dei piccoli picchiettini alla scatola, ma penso non sia successo niente, almeno spero, il telefono era nell'involucro, quindi vediamo un attimino, non c'è scritto che colorazione, spero sia quella bianca, ci godiamo l'unboxing insieme in questa giornata con... Non è bianco, non so, forse, non chi lo sa? Speravo fosse bianco, più che altro per le ditate, vabbè, ci accontentiamo, no? Come si suol dire, eccolo qua, nero, vediamo, effetto... Allora, tolte tutte le plastichine, onestamente pensavo più pesante, così vi dico al pronti via e onestamente a vedere dai video, sì, è pronunciato il bump qua nella parte posteriore, Però, insomma, sono abituato comunque a smartphone imponenti, quindi non mi spaventa assolutamente questo Mi 11 Ultra, vediamo se c'è un pelino di batteria... Sì, si accende, eccolo qua, si è acceso, fortunatamente, se non erro in confezione, eccola qua, infatti, la cover, perché sapete, io con queste riprese a giro ho un po' di paurina, E allora ci andiamo a mettere la cover, così sto un attimino più tranquillo, là, eccola qua, cover in silicone trasparente, c'è una pellicola premontata sul display, sempre in confezione, super caricabatterie, 67 Watt, eccolo qua per la ricarica rapida, nonché cavo USB, USB di tipo C, molto grande, soprattutto anche bello spesso, perché deve supportare la ricarica rapida, piccolo confronto al volo dimensionale, vedete, Mi 11 e Mi 11 Ultra, allora, a livello di altezza sono praticamente identici, a livello di spessore ovviamente no, ma vi assicuro che cambia praticamente solo il bump delle camere, poi più o meno va da occhio, forse Mi 11 è un pochino più fine, questo è lo spessore, questo è il bump, ovviamente audio stereo, super, e questo è un po' il confronto al volo, solo confronto dimensionale, perché non posso fare versus, ragazzi, vi ricordo, è giusto per darvi un feedback. Allora, niente, adesso lo configuro, poi come vi ho detto, prendo un nuovo pattino, andiamo a Firenze, così iniziamo a scattare qualche foto, e inizio a fare qualche clip. Vi ricordo, ragazzi, che le foto, i video, i benchmark, tutto quello che sarà la recensione del telefono non arriverà oggi, ma ovviamente arriverà il 4 di maggio, data in cui potremo raccontarvi tutte le nostre impressioni di questo smartphone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rieccomi qua, ragazzi, tornati in ufficio dopo un giorno passato con questo Mi 11 Ultra. Parliamo un attimino. Ci sono, ragazzi, ovviamente tantissime cose da dire su questo smartphone, ma come vi ho detto, questo sarà solamente un video di primissime impressioni con il telefono, anche perché la recensione, come vi ho già detto, arriverà più avanti. Allora, le prime impressioni sono ovviamente positive, sono di uno smartphone premium, assolutamente premium, nei materiali, nella costruzione, in tutto quello che toccate con lo smartphone e in assoluto, secondo me, in questo reparto posteriore. Ma non voglio spoilerare nient'altro, se non che sono molto, molto in difficoltà e come vi ho detto, ho quasi paura di dirle, quindi mi prenderò tutto il tempo del caso e effettuerò insieme a Flavio tutti i test del caso. Andremo veramente a fondo su questo telefono perché, uno, Xiaomi se lo merita, e due, beh, quando il prezzo è così alto e quando un'azienda, diciamo che oramai vi è abituato a prodotti sia premium, ma sia anche di buon prezzo, diciamo così, buon e elevato rapporto qualità-prezzo, quando si va su una sticella così alta, quando si va a toccare e si vanno a superare i 1000€, secondo me, come anche tutti gli altri competitor, devono avere un occhio di riguardo. È bello al tatto, non mi dà fastidio il bumper posteriore, pesa sì 230 grammi e qualcosina di più, ma io sono abituato oramai ad andare in giro con dei telefoni del genere, quindi la mia mano non fa fatica, il feedback delle vibrazioni per ora è veramente eccezionale, quindi ci sono veramente tutti i presupposti per stare nei top 3 smartphone quest'anno su questo Xiaomi Mi 11 Ultra. Mettete già la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i video, poi arriveranno i vari confronti con S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max, Oppo Find X3 Pro, quindi come vi ho detto questa è la variante che aspettavo veramente con tutta la scimmia possibile, se anche voi come me siete appassionati avete la scimmia su questi telefoni, beh che dire, ragazzi cercate di tenerla a bada ma vi posso assicurare che non è assolutamente una cosa facile. Vi attendo come sempre qua sotto nel box dei commenti, voglio sapere la vostra opinione, voglio sapere cosa ne pensate così a primo impatto di questo Xiaomi Mi 11 Ultra e anche per quest'oggi dal Bungherz ovviamente è tutto e ci vediamo ragazzi domani per un nuovo video. Ciao a tutti!